Leggi su internet quanto ha evaso di tasse Gucci e che sconto gli ha fatto lo Stato. Però il problema è il reddito di cittadinanza. Ciao Max e grazie mille per questo tuo commento. Allora ho seguito il tuo consiglio e sono venuto a sapere che dal 2011 al 2017 il magnate francese François-Henri Pinot, il 32esimo uomo più ricco al mondo, tramite la società Kering, che controlla tra gli altri anche il marchio Gucci, ha evaso tasse per miliardi di euro. E una volta preso con le mani nel sacco, nel 2019 ha raggiunto un accordo col fisco italiano che gli ha fatto risparmiare 748 milioni di euro, pari circa a 150.000 redditi di cittadinanza, cioè 500 euro al mese dati a 150.000 famiglie povere, che non arrivano a fine mese. E questi poi, quelli come Gucci, sarebbero i grandi imprenditori, cioè la spina dorsale del paese, quelli che creano lavoro e benessere per tutti. Osannati dal governo attuale, ma anche e soprattutto da questa vomitevole pseudo-sinistra italiana, oltre che da una pletora di imbecilli che magari guadagnano 1000 euro al mese e che sono a loro volta sfruttati. Però, come hai giustamente osservato tu, secondo i media, la rovina dell'Italia sono i poveri Cristi che prendono 500 euro al mese di reddito di cittadinanza.